Ben trovati amici. Oggi parleremo di malattie del fegato, molto più diffuse di quanto si possa immaginare, come prevenirle, come curarle, ma anche come diagnosticarle. In studio con me il dottor Federico Salomone, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia dell'Ospedale Ancireale. In collegamento abbiamo il dottor Maurizio Catania, responsabile del laboratorio di analisi del presidio territoriale di San Giorgio Catania. Un presidio importantissimo perché scopriremo, effettua veramente tantissimi accertamenti, insomma un laboratorio molto molto importante per quello che riguarda la città di Catania. Parto subito col gastroenterologo, il dottor Salomone. Una delle patologie più diffuse è la steatosi epatica, più volgarmente detta fegato grasso. Chi si sottopone a un'ecografia o insomma una visita medica ci si sente dire che lei ha il fegato un po' ingrossato, ha un po' di grasso nel fegato. Ecco, perché questa patologia e quante persone ne soffrono? Buon pomeriggio innanzitutto. La steatosi epatica dismetabolica è una condizione frequente. Nei paesi industrializzati si stima che il 30-50% della popolazione adulta presenti steatosi. È una condizione che è diventata così frequente perché lo stile di vita che abbiamo è uno stile di vita che ci predispone alla steatosi dismetabolica. Chiunque può soffrirne perché non dà sintomi, quindi si deve solo scoprire. Esatto, è asintomatica e quindi il paziente spesso si rende conto di avere la steatosi perché si sottopone a un'ecografia magari per una dispepsia o per un dolore addominale e c'è il riscontro da parte di chi esegue l'ecografia di una steatosi. Già stanno arrivando le prime domande. Io ricordo comunque il nostro numero di telefono che è il 342-74-55-005. Potete con un messaggino intervenire e rivolgere delle domande ai nostri esperti. Dottore Catania, qual è l'analisi principe per scoprire se c'è un problema al fegato? Ovviamente le transaminasi sono gli esami più frequenti da eseguire. Già con le transaminasi noi possiamo fare una discrimina tra quelle che possono essere le varie cause che determinano un problema a livello del fegato. Alcanto a questo ci sono sicuramente altri enzimi come la gamma GT e la fossatasi alcalina che ci danno contezza di altro tipo di patologia a carico del fegato. E poi ovviamente, ne parleremo più in là, degli esami più specifici che interessano nelle patologie un po' particolari del fegato che non sono né la steatosepatica né pure le cosiddette patine viranee o altre cause come la colestasi, cioè il permanere dell'abbile all'interno dei dotti biliari e che sono le malattie autoimmuni del fegato. Di questo ne parliamo più avanti. Intanto soffermiamoci appunto su quelle che sono le patologie più frequenti. Il dottor Catania ha citato le transaminasi, i cui livelli si possono già individuare con una semplice analisi al sangue. Ecco, altre malattie del fegato, stavamo parlando del fegato grasso. Cosa si può fare? Si può evitare di averlo? E quando si scopre che ci sia questa steatosi? Cosa è bene fare? Perché? A cosa può portare? Ok, allora è fondamentale innanzitutto capire se la steatosi si associa a fibrosi o no. La steatosi è una spia di una condizione dismetabolica dell'organismo. Spesso precede di anni la comparsa di un diabete, di una dislipidemia. Per cui innanzitutto va visto come spia di una condizione dismetabolica e in questo senso non va sottovalutata. Per cui se il medico di medicina generale, che ha un ruolo fondamentale trova una steatosi ecografica in un paziente, quello che andrebbe chiesto sicuramente è un assetto metabolico. Quindi glicemia, trigliceridemia, colesterolemia totale e HDL. Questo serve innanzitutto a inquadrare il paziente dal punto di vista metabolico. Il passaggio successivo è quello di capire se il paziente ha una steatosi solamente o ha una steatosi con fibrosi. Fibrosi è il termine che in medicina indica la sostituzione del parenchima con tessuto cicatriziale ed è quella condizione che nel tempo porta alla cirrosi. Per cui un primo passaggio che può fare il medico di medicina generale, e in questo senso si sta cercando di sensibilizzare la figura fondamentale del medico di base, è proprio quella di calcolare il rischio del paziente di avere fibrosi. Come si può farlo? In maniera semplice, attraverso un parametro che si chiama Fib4, che viene fuori da un calcolo che tiene conto di età, transaminasi e piastrine. La possibilità di calcolare il Fib4 la si ha gratuitamente con le app del telefonino oppure su internet, per cui il medico di medicina generale in presenza di steatosi prima inquadra il paziente dal punto di vista della condizione metabolica e poi esegue il Fib4. Se il Fib4 è inferiore a 1,45 si può ragionevolmente escludere la presenza di fibrosi clinicamente significativa. Se il Fib4 è superiore a 3,4 allora il paziente ha un rischio di avere una fibrosi clinicamente significativa, per cui va indirizzato all'epatologo. Gli pazienti invece che si trovano nell'area grigia e sono una grossa fetta, quelli che hanno un Fib4 tra 1,46 e 3,39, che sono in una fascia grigia, possono essere indirizzati eventualmente all'epatologo che poi utilizzerà altri parametri non invasivi, perché ce ne sono altri, oltre al Fib4, per capire se il paziente che ha davanti è un paziente con steatosi, o un paziente con steatosi e fibrosi. Ci sono delle medicine che possono aiutare il nostro fegato? Degli integratori? Si parla tanto di depurativi, di tarassago, cardomariano, insomma prima di passare a farmaci molto più potenti, perché quelli sono degli integratori, quelli che ho citato io. Questa è la domanda che rivolgono tutti i pazienti. Diciamo che in questo momento tutte le società scientifiche che si occupano di malattie del fegato, in particolare l'AISF, l'Associazione Italiana dello Studi del Fegato, che è quella a cui facciamo riferimento noi ai patologi italiani, raccomanda il cambiamento dello stile di vita come terapia della steatosepatica. Il cambiamento dello stile di vita significa modificare l'alimentazione e attivare un percorso di attività fisica che ovviamente va inquadrato poi nel contesto dell'età del paziente, delle comorbidità, ma ancora oggi la dieta, nell'accezione greca del termine, perché dieta vuol dire stile di vita per l'appunto, è la terapia fondamentale della steatosi. Quindi mangiare bene, evitare fritture, cibi grassi, zuccheri? Ci sono alcuni alimenti, come lei giustamente dice, che sono sicuramente responsabili della steatosi, i grassi saturi, il colesterolo, i zuccheri semplici, soprattutto il fruttosio. Anni fa fece scalpore il fatto che negli Stati Uniti, in cui c'è un consumo di sodas, cioè le bevande gassate, veramente notevole, si vedeva che le quantità di fruttosio ingerite erano poi direttamente collegate allo sviluppo di fibrosi. Quindi diciamo, ad oggi le evidenze ci dicono che è lo stile di vita che migliora sia la steatosi che la fibrosi. È vero però, e in questo mi sento di dare un messaggio ai pazienti che già dall'asteatosi hanno sviluppato una cirrosi, è vero che ci sono dei farmaci promettenti in fase di sviluppo, per cui quando il danno al fegato si è già strutturato e c'è una cirrosi, lo stile di vita è sempre fondamentale, ma ripeto, ci sono dei farmaci allo studio per fare in modo che si abbia una regressione del danno. Bene, allora, è arrivata una richiesta che non riguarda il fegato, ma giustamente la nostra telespettatrice ha visto che c'è in studio un gastroenterologo e quindi fa questa domanda. Sono allergica a diverse medicine, anzi alle medicine, lei dice, cosa posso fare perché ha sempre del rigurgito e quindi questa forma di acidità. Questo diciamo non attiene alle malattie del fegato. No. Quindi questo va inquadrato sì da un gastroenterologo, ma nell'ambito di una malattia da reflusso del gastroesofalgeo. Quindi magari ne parla col suo medico di base? In prima battuta, indubbiamente, poi eventualmente col gastroenterologo, ma è un quadro sintomatologico che ha a che fare con la malattia da reflusso del gastroesofalgeo. Possiamo dare dei consigli, magari di curare l'alimentazione, evitare cibi piccanti. Indubbiamente, anche nel caso della malattia da reflusso, l'obesità viscerale che è uno dei fattori di rischio per la steatosi, è anche un fattore di rischio per la malattia da reflusso. Quindi io consiglierei alla signora già innanzitutto di incominciare a individuare quali sono i cibi che le danno più fastidio, vedere se magari ha delle intolleranze, potrebbe anche essere questo. Io direi che innanzitutto dovrebbe fare una valutazione con un gastroenterologo. A quel punto si deve capire se c'è necessità di fare un inquadramento anche endoscopico della malattia da reflusso o no. Perfetto. Allora, atteniamoci però al tema, stiamo parlando di malattie del fegato, quindi fegato grasso detto in termini scientifici steatosi epatica, parleremo di epatite C, parleremo anche di malattie autoimmuni del fegato che a quanto pare sono in aumento. E quindi ne parliamo subito dopo questa pausa pubblicitaria. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando di malattie del fegato, stiamo invitando le persone che vogliono rivolgere delle domande al nostro medico, il dottor Salomone, dirigente medico dell'unità operativa complessa di gastroenterologia dell'ospedale di Acireale e poi in collegamento abbiamo il dottor Maurizio Catania che è il responsabile del laboratorio di analisi del presidio territoriale San Giorgio di Catania. Un presidio importantissimo perché è uno dei punti dove ci si può regare per effettuare degli accertamenti. Una signora ci ha scritto, adesso devo trovare cosa ci ha scritto, era il fibroscan, quando è possibile fare il fibroscan e come intervenire in caso di epatite. Il fibroscan è diventato fondamentale nella gestione delle malattie croniche del fegato. Quando nel 2010 ero a Torino alle Molinette presso la cattedra di gastroenterologia era all'inizio l'era del fibroscan, ora dopo 15 anni di studi che ne hanno validato in tutte le popolazioni e in particolare nel setting delle malattie croniche del fegato ne hanno valutato l'accuratezza e è diventato uno strumento indispensabile. Ciò non significa che a tutti i pazienti viene eseguito il fibroscan. Il fibroscan lo possiamo considerare uno strumento dell'epatologo quando i dati che si hanno a disposizione in prima battuta non sono sufficienti. Proprio come dicevo prima, se noi abbiamo un paziente con steatosi e ha un Fib4 dubbio oppure Jan superiore al cutoff che predice la fibrosi possiamo eseguire il fibroscan per avere una conferma. Un ruolo fondamentale ha nella gestione del paziente con l'epatite C cronica negli ultimi anni in cui abbiamo assistito proprio a una rivoluzione nella terapia dell'epatite cronica C abbiamo eseguito il fibroscan a tutti i pazienti che avevano l'indicazione al trattamento con i nuovi antivirali diretti. Perché? Perché il fibroscan consente in maniera non invasiva, accurata, non dolorosa e direi in un paio di minuti permettere la valutazione della fibrosi. Quindi il fibroscan ha in buona parte preso il posto della biopsia è vero che ancora facciamo delle biopsie però permette con buona accuratezza di escludere la presenza di fibrosi o di valutarla in maniera più dettagliata. Bene, adesso magari le do a raffica alcune domande che sono arrivate così se riusciamo a soddisfare un po' tutti i nostri telespettatori. Dice il gastroenterologo può curare le malattie del fegato e come prenotare una visita ambulatoriale ad Acireale? Le visite vanno prenotate al CUP naturalmente E' il CUP dell'ASPO di Catania Poi naturalmente questo è un aspetto che forse i pazienti non conoscono l'epatologia è una branca della gastroenterologia quindi diciamo non tutti i gastroenterologi sono epatologi però la maggior parte dei epatologi sono di estrazione gastroenterologica o internistica. Quindi per farci capire l'unità operativa complessa è di gastroenterologia dove esiste anche ovviamente l'epatologo che in questo caso abbiamo noi in studio. Un'altra signora ci dice steatosi da molti anni quali danni si possono avere nel tempo lo abbiamo già accennato se vogliamo proprio ripetere però in maniera stringata. E' fondamentale capire se la signora ha solo steatosi o anche fibrosi quindi si calcola prima col medico di famiglia il fibforo se nel medico di famiglia diciamo non è avvezzo all'utilizzo di questi parametri si fa una visita epatologica e l'epatologo esclude la presenza di fibrosi o meno. Esatto. E un'altra signora ci dice che alle transaminasi vanno bene però la gamma GT molto alta. La gamma GT è un indicatore pure di condizione dismetabolica è un'enzima che tipicamente troviamo aumentato proprio nell'obesità per cui anche se le transaminasi sono normali se c'è una gamma GT elevata va indagata la condizione metabolica del soggetto. Un'altra signora che è un soggetto oncologico l'operata al seno dice che le hanno riscontrato delle cisti al fegato cosa possono determinare queste cisti? Allora la cisti vera e propria a meno che quando sono cisti di grandi dimensioni se sono delle piccole cisti non hanno un significato patologico altra questione è quella dei noduli i noduli possono avere un significato patologico quindi vanno indagate poi con un'indagine di secondo livello come la TAC. Certo. Dottor Catania allora ci sono anche degli accertamenti per scoprire delle malattie autoimmuni del fegato non sono per fortuna frequentissime ma ci sono persone che soffrono anche di malattie autoimmuni del fegato voi nel vostro centro effettuate delle analisi specifiche? Sì diciamo che noi abbiamo le malattie autoimmuni che colpiscono il fegato sono solitamente di tre tipi abbiamo le ipatite autoimmuni di tipo 1 e di tipo 2 poi abbiamo la colangite biliare primitiva che è un'altra forma di patologia autoimmuna del fegato e quelle che sono le cosiddette sindrome overlap cioè che sono a metà tra evatite autoimmune e una colangite biliare primitiva questo tipo di malattie sono sicuramente in incremento anche se ancora vengono considerate malattie rare le ipatite autoimmuni di tipo 1 colpiscono prevalentemente i soggetti in età pediatrica cioè i bambini oppure soggetti molto anziani le ipatite di tipo 2 sono invece prevalenti nella fascia media di età per quanto riguarda invece la colangite biliare primitiva la patologia anche le altre ipatite autoimmuni ma soprattutto la colangite biliare primitiva prevalentemente del sesso femminile quali sono gli esami che vanno eseguiti? sicuramente come prima battuta gli anticorpi antinucleo che ci danno già un'idea che tipo di epatite autoimmuna possiamo riscontrare poi nelle epatite autoimmuni di tipo 1 sicuramente gli anticorpi anti muscolatura liscia i cosiddetti asma nelle epatite autoimmuni di anticorpi anti LKM1 prevalentemente e nella cirosi via primitiva i cosiddetti anticorpi antimitocondri che a volte si riscontrano la cui positività a volte si riscontra ancora prima della comparsa dei primi sintomi di malattia mi scusi se la interrompo quando si ha una malattia autoimmune del fegato ci sono già dei disturbi come si fa a scoprire? lei sta molto bene elencando tutte le analisi che si possono fare che voi fate nel vostro centro ecco perché però una persona arriva da voi perché magari l'epatologo ha già riscontrato qualcosa a livello ecografico oppure si scoprono casualmente diciamo che tutte quelle condizioni che determinano un aumento delle transaminasi che non hanno altra causa evidente come una stredose epatica un'epatite virale oppure dei farmaci che possa avere un effetto tossico sul fegato cioè con l'ultima razza si eseguono questi esami per vedere se il fegato ha una malattia di tipo antinum quindi diciamo che la schia è sempre questa nella corangite migliare primitiva ci può essere invece un incremento della fosfatasi alcalina piuttosto che delle transaminasi che sono normali è chiaro che se poi questo tipo di dati vengono in qualche maniera questo tipo di dati vengono in qualche maniera trascurati possiamo arrivare anche a delle situazioni particolari come nella corangite migliare primitiva per esempio l'itero già accompagnato da prurito che sta ad indicare appunto la presenza probabilmente di una malattia del fegato e là poi si deve indagare che tipo di malattia del fegato è grazie e stiamo rispondendo forse indirettamente a una signora che ci scrive c'è un bambino di 7 anni con transaminasi alte 7 anni quindi già è molto particolare e ci specifica la signora non è obeso quindi potrebbe essere questo bambino affetto da una malattia autoimmune del fegato? assolutamente sì è chiaro che in questa età va riferito anche a un diciamo un epatologo pediatrico quindi sicuramente la risposta è sì potrebbe trattarsi di un problema di tipo autoimmune perché escluderei diciamo in prima battuta che un bambino a questa età possa avere un fatto virale se non occasionalmente epatotropo però è probabile che possa avere un problema autoimmune o una malattia genetica quindi in questo caso cosa possiamo consigliare alla signora? ci sono dei centri di riferimento a livelli nazionali che si occupano di epatologia pediatrica quindi la signora sicuramente si deve documentare cercare dei riferimenti a livello pediatrico però anche in questa fase io direi intanto è opportuna una consulenza del pediatra poi sarà il pediatra a inviare un centro epatologico pediatrico certo però potrebbe già effettuare le analisi che ha citato il dottore Catania certamente così magari si può arrivare come dire con degli accertamenti in più un pattern di autoimmunità può essere sicuramente eseguito già in questa fase non occorre aspettare il consulto con diciamo il pediatra che si occupa di epatologia quindi già in una prima fase si può eseguire un pattern di autoimmunità e vedere se c'è qualche positività ci chiedono il nostro telespettatore soffre da molto tempo di morbo di Crohn ci può essere un collegamento con il fegato? questa è una domanda assolutamente pertinente perché la malattia di Crohn si associa alle forme di colangite immunomediata di cui parlava il dottor Catania quindi sì sia la colitulcerosa che la malattia di Crohn possono associarsi sia una colangiopatia cronica di tipo immunomediato o un'epatite autoimmune è un riscontro frequente in genere non frequente ma è possibile e quali altre malattie può avere il fegato? abbiamo parlato delle cisti abbiamo parlato di fegato con fibro di steatosi epatica io spenderei se lei me lo consente diciamo qualche parola sull'epatite C cronica nel senso che in nessun campo della medicina come nel campo della terapia dell'epatite C cronica si è veramente assistito a una rivoluzione negli ultimi anni con l'avvento degli antivirali diretti che oggi sono pangenotipici e che danno una eradicazione del virus vicino al 100% dei casi quindi c'è una buona speranza per chi soffre di epatite C di natura virale assolutamente sì spesso pazienti magari nell'ottava decade di vita dicono vabbè ma ce l'ho da anni ma invece oggi i farmaci sono talmente efficaci e sicuri che il trattamento non deve essere escluso a priori e a questo proposito volevo anche sottolineare che comunque c'è ancora un sommerso che riguarda l'epatite C e allora alcuni anni fa il ministero ha stanziato dei fondi per una campagna di screening poi c'è stato il covid di mezzo però la campagna di screening verosimilmente l'anno prossimo partirà anche in Sicilia riguarderà tutti i residenti diciamo nella nostra regione con un diciamo nati in un intervallo tra il 1969 e il 1989 prevederà l'esecuzione di un test anti-HCV gratuito e poi da lì se c'è la positività e l'anti-HCV si eseguiranno ovviamente la viremia e tutte quelle indagini anche diagnostico strumentale che servono a inquadrare il paziente però dico il messaggio che deve arrivare forte è che dobbiamo ancora scoprire pazienti che non sanno avere l'epatite C e quelli che ce l'hanno devono curarsi e guarda caso è arrivato proprio in questo istante un messaggio un signore o una signora si era recata per donare il sangue ed è risultata affetta da epatite C poi ha voluto fare un altro controllo un altro laboratorio e non è risultato questo invece è risultata negativa dice potrebbe essere questione di reagente ci sono ovviamente a questo può rispondere benissimo meglio di me però dobbiamo più in grado siamo in chiusura ci sono dei falsi positivi e dei falsi negativi ovviamente però è importante che se il paziente è anti-HCV positivo si sottoponga a una viremia e sappia che oggi c'è una terapia estremamente efficace ed estremamente sicura quindi intanto rifare magari le analisi in un altro laboratorio e vedere un attimo se realmente è affetto da epatite C nel qual caso il dottore ci sta tranquillizzando ci sono degli antivirali molto efficaci adesso quindi anche chi ci soffre da tanti anni può ecco non deve necessariamente rassegnarsi a questa sua condizione ultimo proprio in chiusura vorrei come dire fare un accenno all'utilizzo di alcol così frequente nei giovani soprattutto in età veramente molto giovane nel weekend insomma i ragazzi si fanno gli sciortini queste sono una pratica assolutamente ha ragione la steatosi epatica che dipende dall'abuso di alcol non va dimenticata non va sottovalutata soprattutto negli adolescenti dove c'è questa pratica chiamata binge drinking cioè il fatto di bere nel fine settimana delle quantità di alcol che sono assolutamente in grado di danneggiare il fegato intanto con un primo danno di tipo steatosico quindi dando l'insorgenza alla steatosi ma poi possono condurre nel tempo anche alla fibrosi di cui si parlava prima quindi non abbassare la guardia non perché si è giovani si può fare una vita totalmente sregolata perché poi purtroppo i danni ci saranno continuano ad arrivare tanti messaggi ma purtroppo non possiamo più rispondere a nessuno a nessun'altra persona ci dicono di avere le transaminasi alte anche se fanno attività fisica e insomma bisogna indagare e quindi va indagato in un altro contesto il perché di queste transaminasi alte ci vorrebbero tanti altri minuti di trasmissione per rispondere a tutti io ringrazio i miei ospiti grazie a dottore Salomone grazie grazie al dottor Maurizio Catania per essere stato con noi ancora una volta e grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui a tutti e alla prossima puntata